Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, stand Sony al Mobile World Congress e questo è l'Xperia Z2 Tablet. Sony lo presenta come il tablet più sottile e leggero al mondo dotato di possibilità di essere immesso in acqua, infatti anche questo tablet come il suo predecessore è resistente ad acqua e polvere con certificazione P58. L'Xperia Z2 Tablet ha un display da 10.1 pollici con una risoluzione di 1920x1200 pixel. Le dimensioni sono di 266 mm di altezza per 172 di altezza per 6.4 mm di spessore. L'Xperia Z2 Tablet è già basato nativamente su Android 4.4 KitKat con interfaccia utente personalizzata da Sony. Per quanto riguarda invece il processore abbiamo un Qualcomm Snapdragon MSM8974AB che è un quad core da 2.3 GHz con una GPU Adreno 330 e 3 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda invece la memoria per l'utente abbiamo 16 GB di memoria utente per la versione LTE, HSP, A-Flast e Wi-Fi e 32 GB per la versione solo Wi-Fi. Si tratta ovviamente di memoria che può essere espansa di ulteriori 64 GB tramite l'apposito slot microSD. Molto importante anche su questo device il comparto fotografico. Sul retro abbiamo una fotocamera da 8 megapixel e la vediamo subito con sensore Exmor RS for mobile. Sulla parte anteriore invece abbiamo una fotocamera da 2 megapixel con sensore Exmor R. Abbiamo poi una batteria integrata da 6000 mAh, supporto alle reti LTE, GPRS, GSM e Edge e anche o MTS HSPA Plus. Abbiamo ovviamente anche il Wi-Fi ABGN AC e il Bluetooth 4.0. Xperia Z2 Tablet arriverà sul mercato il prossimo mese, non ci è stato comunicato il prezzo ma sarà ovviamente in linea anche in questo caso con il prezzo del suo predecessore. Per Telefonino.net, Antonio Monaco.